Palaverde di Treviso, gremito domenica sera per il concerto dei Modà. Quella trevisiana è stata l'unica tappa veneta autunnale della pop rock band. Tantissime persone hanno aspettato pazientemente per ore l'apertura dei cancelli. Poi è iniziata la corsa per accapparrarsi i posti migliori. Puntualissimi, alle 21 i Modà hanno iniziato il loro spettacolo, partendo da vittima e passando per i loro successi più conosciuti, come Salvami, La Notte e Sono Già Solo, singolo che ha posto il gruppo all'attenzione del grande pubblico e che è rimasto ai vertici delle classifiche per 40 settimane. Non è mancato ovviamente e arriverà, il brano che ha permesso ai Modà di conquistare il secondo posto al Festival di Sanremo insieme ad Emma Marrone. E a Treviso il gruppo ha incontrato un pubblico davvero caloroso, che ha cantato a squarciagola per tutto il concerto. Travolgente è la potente voce del leader dei Modà, Francesco Checco Silvestre, che si è esibito anche in alcuni pezzi al pianoforte. Due ore di musica, 22 canzoni eseguite e fans in delirio. Uno spettacolo che ha conquistato tutti dall'inizio alla fine. E come ha detto Francesco Silvestre, speriamo di rivederli al Palaverde anche l'anno prossimo. Ci avveniamo! Grazie per questa magnifica accadenza.